si è un prato provate il caimai non si è un frattore si è fatto di piedi quando si è fatti di piedi si è fatti di piedi quando si è fatti di piedi si è fatti di piedi quindi Girona forse non è fatti di piedi non la vado non l'ho mai visto scelta qui voglio un bel figlio ok e lavoriamo ok 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 i ok ok Grazie.